Un bracciante agricolo Giovanni Romeo di 52 anni è stato ferito in un agguato in località Vennarella di Rizziconi nella piana di Gioietauro ed è stato salvato da una pattuglia dei carabinieri in servizio di controllo del territorio posta nelle vicinanze dell'accaduto. Secondo quanto appurato l'uomo già noto alle forze dell'ordine verso le 3.30 di mattina si trovava a bordo del suo autocarro diretto verso un frantoio dove avrebbe dovuto prelevare dei residui di lavorazione delle olive quando è stato raggiunto da alcune fucilate calibro 12. Secondo il suo primo racconto almeno due che lo hanno ferito all'addome e alle braccia. Malgrado le ferite è riuscito a proseguire la marcia incontrando i militari che hanno impedito che i sicari concludessero la loro missione. La vittima quindi è stata soccorsa e portata all'ospedale di Polistena. Qui l'uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e dalle prime informazioni sembrerebbe non essere in pericolo di vita anche se è in prognosi riservata perché ha perso molto sangue. Appena scattato l'allarme incontrata a Vennarella il posto alle prime luci dell'alba è stato oggetto di controlli alla ricerca di possibili indizi quali la presenza di tracce lasciate da qualche autovettura o qualche motocicletta in uso all'attentatore o il rinvenimento di cartucce esplose per una conferma del calibro del fucile automatico usato per cogliere l'obiettivo. Sembra accertato che malgrado la giornata festiva avesse in programma di raggiungere un frantoio per prelevare residui di olio d'oliva per dirigersi poi in un'azienda agricola dove procedere a dei lavori che aveva in mente di portare a termine. Forse il feritore conosceva le sue abitudini perché era solito andare a lavorare abitualmente prima dell'alba per cui non ha avuto difficoltà ad attenderlo al varco per attentare alla sua vita. Adesso i militari dell'arma stanno tentando di ricostruire gli ultimi movimenti del ferito e di cercare di capire se di recente lo stesso possa aver avuto motivi di contrasto con qualcuno che non ha esitato a impugnare un'arma per eliminarlo.